Eccoci qui, buongiorno a tutti, buongiorno da iarforex.com, da iarforex, questo qui è la mia sede, il mio ufficio, l'ufficio di iarforex. Sono qui, in questo momento è sabato pomeriggio, mi si stava così frullando nella testa alcune cose, perché anche in base ai commenti, alle cose che scrivete quando facciamo i video su YouTube, quando facciamo le live, anche via mail, sono cose abbastanza ricorrenti e quindi mi è venuto un po' da riflettere su quali possono essere. Diciamo, le modalità più efficaci da un punto di vista proprio pianificativo che possono avere in effetti un risultato che può essere soddisfacente per chi fa trading, ma per chi fa trading in che senso? Per chi fa trading iniziando con piccolo capitale, con pochi soldi. Diciamo che nel settore del trading, nel mondo del trading, soprattutto negli ultimi tempi, c'è un po' questa moda, anche molto sbagliata, questi nuovi video di nuovi YouTuber che hanno iniziato magari a fare trading uno o due anni fa, e si mettono a fare dei corsi, provano a far vedere che sono in grado di fare trading ad altre persone e cercano di spiegare le cose. Questo è già qui, cosa succede? Succede che le informazioni che arrivano alle persone, soprattutto ai più giovani, che vedono magari attraverso per esempio l'uso di capitali piccoli, alta leva o cose di questo tipo, la possibilità poi di guadagnare, diciamo che è un qualcosa che sinceramente e dico personalmente anche in modo come dire, ve lo dico a livello esperienziale, è un qualcosa insomma abbastanza così, un po' sognatore. Diciamo che invece in questo video mi piaceva con voi cercare di andare un po' più sul profondo, in maniera però comunque sempre tenendo la cosa abbastanza semplice, nel senso che andando a capire quale potrebbe essere in effetti una via buona perché chi fa trading all'inizio, soprattutto chi è molto giovane, quindi non ha molti soldi da parte da poter dedicare all'impresa trading, possa invece con la realizzazione di un piano che si pianifica prima andare un po' alla volta poi ad avere la possibilità con il capitale buono, almeno un minimo di capitale per poter iniziare a fare l'attività di trading come un'attività che in effetti inizia a dare delle soddisfazioni, ma non perché si usi alta leva, perché si usi un rischio spropositato, cose di questo tipo, perché questo purtroppo porta alla distruzione del conto, porta alla distruzione del capitale, tant'è che tante volte molte persone, anche imprenditori di un certo tipo, gente che investe già, vede a volte nel trading un po' come quella cosa stile scommessa, si perdono solo soldi, al forex, sulle azioni troppa volatilità e tutta una serie di cose, per cui magari si rimane sempre con la testa più investing di lungo termine, che è sicuramente interessante, ci sono degli strumenti, per esempio gli ETF, su indici, alcuni indici, eccetera, che possono essere interessanti nell'ottica investing di lungo termine, ma nell'ottica di trading bisognerebbe ragionare sempre, che è più lavorativa, diciamo, sempre nel dire bene, io adesso devo investire del capitale per poter farlo fruttare un po' alla volta, mi diventi un'entrata costante. Costante non significa che ogni mese farò perfettamente e sempre lo stesso guadagno, perché non è possibile ovviamente, nessuna attività imprenditoriale permette questo, ma avere un capitale minimamente grosso per poter iniziare poi a far sì che il trading possa pagare mediamente, costantemente uno stipendio o comunque spese, cose, e quindi diventi una fonte di reddito, quindi un qualcosa di guadagno da lavoro, diciamo, è un po' come l'imprenditore che ha l'azienda, da cui tira fuori dei soldi e comunque magari ci sono dei rinvestimenti del lavoro proprio, il trading è un lavoro, seppur ovviamente poi dipende dallo stile di trading c'è quello un po' più stressante, meno, voi sapete che io faccio un trading con meno operazioni, molto pianificate, un rischio ben inteso nell'inizio, di qualità, tain frame alti, tutta una serie di cose per cui cerco a fine mese, a fine anno, di portare sempre in cassa dei soldi, però questo non è il topic, il topic è come faccio a farlo se Arduino mi dicono io ho al massimo 3-5 mila euro da investire sul trading, da mettere nel conto di trading, spesso quando si parte con una cifra così molto modesta e molto bassa, io ripeto dai 3-5 mila euro, è il minimo per iniziare a fare una piccola parte nel trading e iniziare, e quindi il capitale piccolo per me è quello, sotto i livelli che vi ho appena detto diventa veramente un qualcosa che proprio diventa il giochino e sinceramente non ve lo consiglio, se non avete neanche 3-5 mila euro inizialmente da investire, conviene proprio aspettare e magari continuare a risparmiare, adesso vi farò vedere, continuare a fare un certo tipo di risparmio, che adesso vi spiego, e magari quando si ha almeno quella cifra iniziare, intanto comunque in quella finestra si deve studiare, si deve apprendere, acquisire delle competenze, magari in paper trading, guardare un po' qual è il movimento di alcuni titoli azionari, di alcune coppie di valute, di alcuni indici di borsa, dell'oro, dell'argento, del petrolio, di queste materie prime, dove si vuole andare poi a investire nel breve termine, però tutto sempre nell'ottica di farlo diventare un lavoro, perché ovviamente se si va a, come dire, ad approcciare al mercato del trading, al settore del trading, a livello lavorativo, non in maniera imprenditoriale, pianificata, con degli obiettivi, anche con poco o anche con tanto capitale, i risultati non ci saranno, o saranno sicuramente molto facilmente, sicuramente non c'è molto facilmente risultati negativi, risultati che scoraggiano poi a continuare questa attività. Quindi siccome, io sapete, faccio segno da tanti anni, è il 2022, ho 41 anni, sono, insomma, mi conoscete, sono da tanto tempo anche nel settore, diciamo, della consulenza informativa, dell'informazione, dei servizi operativi, e tutta questa cosa, no, del trading proprio. Cioè, cerco con il mio metodo, perché poi, come dico sempre, ognuno ha la sua, deve crearsi un suo vestito, ma noi cerchiamo di trasmettere un metodo, con alcune modalità operative, con un approccio anche mentale, un set mentale, che permette nel tempo, attraverso anche delle strategie, che ormai sono, insomma, utilizzate da me, e da chi, insomma, si è formato con me in tutti questi anni, ancora tanti sono ancora con me nel Platinum, che sono ricorrenti, sono dei pattern ricorrenti, delle dinamiche, no, ricorrenti sul mercato. Ma se noi siamo anche dei bravi tecnici, ma magari abbiamo poco capitale, oppure, siccome abbiamo poco capitale, pensiamo che usando l'alta leva possiamo fare, mettere lì mille euro, e magari facciamo anche il mese, dove facciamo il 30%, facciamo mille tre, mille cinque, perché siamo, no, però poi il mese dopo si brucia tutto. Lasciamo stare poi tutta quella schifezza relativa a, adesso vedo tutti questi ragazzini con le sale segnali, tutte queste robe qua, no, lasciamo stare tutte quelle cagate, scusate il termine, ma sono proprio delle truffe messe lì, no, quindi lasciate stare tutte quelle cose, si perdono solo soldi. Allora, se qui siamo qua per fare trading, perché alla fine siamo, diciamo, volti al guadagno e cercare di avere quindi l'obiettivo di far diventare il trading un'attività, se, per chi non è ancora un'attività, o comunque di un'attività primaria, o fare diventare un'attività secondaria, è un'attività, però, attivo, attività, non una passività, deve ovviamente darci una remunerazione. Allora, siccome molti di voi mi dicono, ma io ho questi, oppure anche lo sento, no, ho aperto conto con 3.000, con 4.000, con 5.000, con 8.000, con 6.000, sono tutti capitali, insomma, molto piccoli, ma è giusto anche magari all'inizio iniziare così, se proprio uno non li ha, quindi io metto l'esempio del ragazzo che ha 24, 25 anni, 26 anni, che ha 5.000 euro da poter inserire nel conto di trading, ha già fatto magari un annetto e mezzo di preparazione, un annetto e mezzo di preparazione, dove comunque si è, come dire, sbattuto nello studio, si è, come dire, approfondito alcuni metodi, e ha magari sposato un metodo e ha iniziato a studiare su quello. Benissimo. Decide di aprire questo conto, ecco, intanto si va tranquilli. Mettiamo che quindi abbiamo un paio d'anni di studio, un anno e mezzo, un paio d'anni, quindi non vediamo che il mio amico mi ha detto che iniziamo, apriamo il conto, mettiamo lì 3-5.000 euro e iniziamo a cliccare. No, sto parlando di chi comunque inizia ad avere un po' di studio, poi decida a un certo punto di partire, perché poi alla fine bisogna anche partire, e iniziamo con una piccola parte, iniziamo con un caldo. 5.000, perché poi abbiamo quelli, no? Io prendo una persona appunto di quell'età che magari ha iniziato ad avere un lavoretto che gli dà 1.000, 1.200 euro al mese e che ha questi 5.000 euro da parte che può decidere di investire nel settore del trading. Ovviamente non si va a investirli dicendo ma sì, no, no. Si va a investirli, quelli sono come se fossero 500.000 euro e quindi diventano per noi un capitale importante, perché da quello sviluppato bene si può trovare negli anni la nostra via se si vuole fare trading. Quindi intanto vedete un approccio serio, pianificato, imprenditoriale. Quei 5.000 li facciamo valere, sono per noi molto importanti. Questi 5.000 poi abbiamo questi 1.200 euro che ci arrivano mensilmente da questo magari uno stipendio o perché magari abbiamo, non so, siamo degli agenti di commercio, quindi magari comunque mediamente abbiamo questi soldi che ci arrivano e abbiamo questo stipendio. Ecco, vi faccio vedere una cosa, vi faccio, voglio fare, e adesso prenderò anche il tabellario che noi abbiamo qua con i Airforex e voglio farvi vedere. Allora, questa persona, quindi adesso vi condivido un attimo lo schermo, vediamo se sono in grado qua, ok. Prendo la calcolatrice intanto. Questa persona, facciamo così, ha... Questa persona che ha questi 5.000 euro da mettere da parte e ha ogni mattina, mettiamo esempio, risparmia 4 euro ogni mattina che sarebbero come dire se durante il giorno mi bevo, non so, due caffè e mi compro un succo di frutta e una brioche, piuttosto che la mattina vado prima di andare al lavoro o durante, nella pause, mi prendo un cornetto, un caffè, o un cappuccio e un succo di frutta all'arancia. Vuoi che non spendere 4 euro? Ecco, 4 euro. Questi 4 euro, invece di spenderli così, e quindi va a, come dire, sembra una cifra, anzi, sono una cifra, direi, abbastanza utilizzabile a tutti, poi lasciamo stare che ci sono persone che guadagnano 1.000 euro al mese e hanno l'iPhone. Ecco, già lì, no? Ecco, quello lì già è... Però, lasciamo stare, facciamo un esempio che ho questi 4 euro che io spendo giornalmente perché magari invece di spenderli così me li porto da casa e faccio uno sforzo, ok? Faccio uno sforzo, cerco un po' di, diciamo, andare a obbligarmi a risparmiare quella piccola cifra rispetto a spenderla attraverso magari, appunto, andare al bar, a bermi un caffè, piuttosto che mangiarmi una brioche, e un succo di frutta che sicuramente è anche carino, interessante e nella giornata ci può stare, ma se noi abbiamo un obiettivo per, da qui a, facciamo, ho fatto proprio il piano, da qui a 4 anni, quindi non è una cosa che dall'oggi al domani metto X sul conto di trading, sul Forex 500 la leva, no, per quello si bruciano i soldi, ma tanto vale, non ha senso, cioè li bruciate, non ha senso. Quindi, facciamo uno sforzo, cerchiamo di obbligarci a risparmiare questi 4 euro che io spenderei durante il giorno per un succo di frutta, un caffè e un cornetto, adesso per fare un esempio, questi 4 euro, alla fine del mese, che sono 30 giorni, voi avete 120 euro risparmiati. Questi 120 euro, se vogliamo, se noi andiamo a fare i 1200 euro che potreste avere come stipendio, o comunque come introito medio di una vostra attività che state facendo al di là del trading, e lo moltiplicate per un 10%, alla fine, tra l'altro, mi viene da dire, è anche 120 euro. Quindi è come dire che del mio compenso, del mio stipendio, dite quello che è poi la vostra attività, che è 1200 euro, e un 10%, diciamo, lo obbligo ad andare su un altro flusso, su un altro conto, quindi faccio un flusso di cassa da un conto a un altro, che sarebbe dal conto mio bancario, che utilizzo per fare le mie cose, a un conto, in questo caso al conto di trading, che è l'obiettivo mio di dire, bene, la prima cosa sui 5000, perché da qui a 4 anni, io, quei 5000, e quindi poi passeranno anche degli anni, e poi vi spiego che è molto importante anche questo, perché il fatto che passano gli anni, ovviamente dà una certa esperienza poi, quindi è sicuramente importante, perché ovviamente potete ben capire che se io parto dopo due anni di studio, e parto tranquillamente, in modo molto tranquillo, in reale con 5000, è ovvio che non avrò quell'esperienza di altri 4 anni, quindi anche il fatto poi di avere un obiettivo a 4 anni, da quando inizio seriamente, con un piccolo conto, ci dà anche una cosa migliore, perché io sviluppo le mie capacità, anche date dall'esperienza sul campo, che è importantissima, aumentando piano piano i soldi che avrò sul conto corrente di trading. Quindi io, prima di tutto, avrò questi 120 euro, che sono questi 4 euro al giorno, ok? Per 30 giorni, che a fine dell'anno, per 12, sono inseriti nel conto di trading, quasi 1500 euro, che per 4 anni, vorrà dire che ho messo in più 5760 euro, quasi 6000 euro, ok? In più. Quindi io ho messo 5000 oggi così, boom, con una tantum, una soluzione unica, però in 4 anni, senza fare uno sforzo enorme, ripeto, sono 4 euro al giorno, che invece da dedicare a delle cose che si possono anche evitare, diciamo, facendo un piccolo sforzo, un piccolissimo sforzo, da qui a altri 4 anni, minimo avrò questi 5760 più 5000, ovviamente, perché? Perché si va a fare un trading non pensando di perderli, ecco, perché poi dopo, ovviamente, c'è tutta la questione del trading. Quindi io vado a metterci questi 120 euro, guardate qua, 120 euro che uso, mensilmente, e li vado a mettere giù, va, 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 nei 4 anni, questo è il piano, eccoli qua, ok? Questi 120 euro qui, li mettiamo anche magari un po' messi bene, li mettiamo tutti i centrali, eccolo là, quindi abbiamo detto che 120 euro per 4 anni, eccoli qua, qua sotto lo vedete, 5760, che è appunto il conteggio che abbiamo fatto prima con la calcolatrice. Allora, guardiamo qui, partiti con 5.000, poi ovviamente, avendo un, una base, cercando di, io poi penso a, i ragazzi e le ragazze che sono abbonati al Platinum, che hanno anche noi come guida, nel trading, lo vedono e lo capiscono, ma ve lo dico io, diciamo che, per la mia esperienza, un trader che rischia il giusto, quindi né troppo poco, ma neanche troppo, e cosa vuol dire? Vuol dire che rischia più o meno a singolo trade, l'un per cento, o anche un po' meno, come faccio io, del capitale per singolo trade, però con qualità alta, a volte setup e trigger su grafico settimanale, una gestione molto attiva della posizione, ovviamente cercando di lasciare un po' correre, ma senza essere troppo così, cioè l'obiettivo è quello poi di fare l'obiettivo, di guadagnare quello che è l'obiettivo, non ci interessa di avere ragione, di per forza andare a target, no, l'interesse è l'obiettivo, quindi di guadagnare, e vi assicuro che, ecco, facendo un trading di questo tipo, su grafico weekly, su grafico daily, setup ben, ben di qualità, mercati ben liquidi, stop di rischio massimo, che non supera l'1% del capitale a disposizione, diciamo che un 3% mediamente in un anno, mediamente non vuol dire che ogni mese farete il 3, vuol dire che c'era anche un mese da meno 1, ma ci sarà magari un mese da più 6, e ci sarà un mese da più 2, uno da più 4, poi c'era quello da più 3,5, quello da meno, da più 2,5, e cose di questo tipo, un 3% mediamente al mese è una cosa che vi assicuro è abbastanza facilmente possibile, ovviamente poi adesso qua si potrebbero aprire mille e più obiezioni, commenti, eccetera, però lo dico per la mia esperienza e per chi magari segue anche da un po' di tempo il Platino, potrà confermare anche qui sui commenti che è una cosa abbastanza ottenibile, cioè il 3% rischiando l'uno con gli approcci sia mentali che di money management, che tecnici che noi abbiamo nel trading, è un qualcosa di abbastanza fattibile, non è un qualcosa di, non è un sogno, cioè è un qualcosa di raggiungibile, che vuol dire un 36% tra l'altro all'anno, raggiungibilissimo, ok, pensando a operare su alcuni titoli azionari, penso a Stock Insider, più il Forex, più qualche indice, più ci metti ogni tanto se c'è l'oro oppure il petrolio, insomma, è un qualcosa di abbastanza sostenibile, anzi, ovviamente con la qualità, perché l'obiettivo è quello intanto di non perdere prima di tutto Warren Buffett, Dochet, ma poi, essendo il nostro lavoro, comunque, in quel momento non sarà il nostro primario lavoro, ma sarà la base per farlo diventare un lavoro, l'obiettivo è quello lì, come voi poi vedete, questo è un file che rilasciamo anche agli utenti Platinum, io so che devo fare con questi, io ho media, con 5, devo fare 150 euro, quindi io, il mio obiettivo, il mese, sul 150 euro, a settimana, vuol dire fare 37 euro e mezzo, per carità, poi c'è la settimana che fai un po' di negativo, la settimana che vai un po' di più, c'è la settimana che fai quasi perfettamente questo, a settimana è quello lì, che è lo 0,75% weekly, però ovviamente questo è, perché è un po' una proiezione, è osservare l'obiettivo, allora se io ho l'obiettivo e lo vedo, vi assicuro che è molto più facile raggiungerlo, perché poi quando ho le mie operazioni a mercato, eccetera, non è che guardo e do troppa importanza l'operazione in sé, ma do l'importanza al totale di quello che sto facendo per realizzare l'obiettivo che è in questo caso 150 e poi in base a quello che si gira, perché poi io cosa faccio? Poi se il mese dopo invece di andare a 2,70 ne ho fatti un po' di più, io glielo scrivo qua, se ho fatto invece di 2,70 ne ho fatti, arrivo a 5.320, io scrivo 5.320 e lo ricambio, hai capito? 5.320 il mio obiettivo è 159,60, 160 euro, che vuol dire 40 euro alla settimana, ovviamente, quindi più che altro quello alla settimana non è un obiettivo che devo raggiungere, chiudere tutto, no, è più che altro è un, anche qui, avere la visuale, avere, come dire, vederle, vederli, e quindi vedendoli si ha molta più possibilità di raggiungerli perché tu vivi in quel momento l'operazione, vivi la situazione, vivi il portafoglio e sai come ti stai gestendo, no, e via, quindi aspetta un attimo che torno a 5.000 così è più, ok. In questo caso cosa succede poi? Se però io quei 4 euro dell'inizio che vado ad avere come 4 euro perché ho fatto il mio risparmio diciamo quasi obbligato cioè è un qualcosa che deve esserci quindi facciamo un esempio è come se io avessi un pack, no, un piano d'accumulo e mi obbligo questi 1.200 euro e obbligo un 10% ad andare in questo conto di trading mensilmente, ok? Che potrebbe anche essere quei 4 euro per versi un caffè o un cappuccio un succo di frutta all'arancia all'ananas o al mirtillo per quello che mi piace molto il mirtillo è un cornetto avete capito? Cioè non è nulla di così impossibile però vedete che in X anni poi crea una capitalizzazione maggiore e se noi andiamo poi a aggiungere quindi c'è un interesse composto perché io poi vado ogni mese in base ai soldi che mi sono arrivati ad avere quindi un obiettivo che ovviamente è sempre il 3% ma ovviamente il 3% su 10.000 al sedicesimo mese quindi il quarto mese del secondo anno il 3% su 10.021 l'obiettivo in quel mese saranno 300 euro quindi anche se sempre il 3% non sono più 150 però sempre i 120 metterò in questo modo guardate invece di provare a fare il trader e poi vi bruciate solo i soldi con poco tanta leva seguendo quello là che dà i segnali quell'altro lì che ha la Lamborghini noleggiata tutte ste cazzate no fate le cose seriamente pianificatevi ovviamente bisogna avere però uno studio un metodo noi ne mettiamo a disposizione mettiamo a disposizione per le persone che vogliono imparare dall'assetto mentale per fare trading che è fondamentale alla tecnica le strategie i metodi il money management diamo la possibilità di essere con noi seguiti costantemente nel percorsi platinum scuola e mentorship nello stock insider quindi siamo sempre bene o male in compagnia dei trader che vogliono con noi tradare e rimanere connessi la cosa bella è che se si fa un certo tipo di pianificazione con degli obiettivi che si possono tangere toccare sono tangibili e li potete vedere guardando questo file per esempio riuscite a capire vedere aggiungendo anche perché è già solo così ma aggiungendo perché aggiungendo oltre ad avere serietà e quindi responsabilità dei vostri soldi che vedete lì voi aggiungendo ogni mese vi sentite anche più responsabile più nella cosa di rimanere sempre attivi imprenditori focalizzati del vostro account della vostra impresa di trading e cercare di scalarla di farla diventare sempre più capitalizzata perché intendiamoci con 5.000 euro non si può vivere di solo trading ovviamente perché a meno che appunto voi non viviate con 150 euro al mese insomma ok quindi bisogna essere capitalizzati per vivere di trading perché la cosa è rischiare poco e guadagnare tanto già nel senso che non è una cosa se non capite di male rischiare poco nel senso che se io rischio l'1% di 200.000 euro rispetto all'1% di 5.000 ovviamente è un altro rischio a livello di capitale e quindi anche il guadagno perché il rischio e il rendimento viaggiano abbastanza ravvicinati il rendimento che ne deriverà da un rischio del 2% dell'1% di 200.000 euro a livello di euro sarà più alto dell'1% su 5.000 è normale quindi anche solo che io faccio l'1% di guadagno su 200.000 sono 2.000 euro rispetto a l'1% di 5.000 che sono 50 euro quindi provate a capire quindi ci vuole essere capitalizzati e se uno non ha i soldi ma comunque in generale anche se uno dovesse avere i soldi inizialmente per testarsi un po' alla volta non è mai bene iniziare subito con tutto quello che si ha se è tanto se è poco tipo 5.000 va bene ma se no attenzione comunque mettiamo che se io non li ho quindi non posso e quindi non posso però nemmeno pensare al sogno che con 5.000 euro posso vivere i trading no allora per farlo la via più efficace che non ci vuole neanche tanto tempo che qualche anno è niente ragazzi è nulla allora noi cosa facciamo ci mettiamo predisposti per farlo mettiamo la nostra cifra su un conto su un broker serio sano voi sapete che sul sito nostro nel menu c'è anche la scritta broker che vi porta direttamente al sito DG e da lì potete aprire il conto e avete sicuramente un broker sano serio storico affidabile insomma sapete no poi ce ne sono sicuramente altri di affidabile però non andate ad aprire il conto alle Bahamas o alle isole vergine britanniche sul forex con leva 500 perché spesso sono dei siti internet non sono nemmeno dei siti di broker che vi ciulano solo i soldi vi fregano i soldi e poi il sito dopo tre mesi scompare e voi non sapete più a chi affidarvi anche perché nessuno vi può aiutare anche se andate dagli avvocati e fate una class action questi qua non ci sono più non si sa neanche chi fossero quindi non è possibile quindi broker intanto è importante quindi dovete inserire i soldi in un broker sano ripeto nel sito di Airforex trovate scritto broker il broker è sano è AG quindi al massimo ci sono altri non voglio adesso fare mille nomi se ne sono altri di serio non è un problema ma l'importante è che vi capite quindi broker che hanno chissà dove sedi chissà dove attenzione soprattutto se vi propongono leve incredibili se siamo in Europa se voi viete in Europa prendete un broker che sia come dire che abbia le licenze per operare nella Unione Europea per esempio è molto importante perché poi il broker alla fine è il vostro socio quindi dovete cacciare il grano lì e se voi volete riprendervi solito non so farvi un bonifico di 2000 euro perché avete bisogno di ritirare di solito quando avete più soldi quando avete 5000 ovviamente ecco anche qui bisogna stare molto bisognerebbe riuscire ad avere l'obiettivo dei 4 anni e dire almeno fino a 4 anni non vado a ritirare nulla cioè cerco di mantenere il profilo di un po' alla volta guadagno grazie alle mie operazioni di trading sano di qualità poche buone con poco rischio perché un attimo nel trading farsi male bruciarsi soli un attimo ok quindi così più ci inserisco queste rate diciamo no questo piccolo risparmio che mi faccio mensilmente che però nel lungo termine può diventare anche molto remunerativo perché aumenta capitalizza la nostra azienda di trading e porta guardate nel giro di 4 anni al quarto anno partendo da 5000 invece magari di trovarvi dopo 4 anni senza soldi frustrati depressi perché avete perso i soldi col trading e magari invece di 5 negli anni ne avete messi anche ogni tanto diventate 5 poi avete bruciato i soldi dopo un anno ne mettete altri 2 poi li bruciate alta leva seguite questo altri 1000 perché poi è così invece di 5 in 4 anni magari ne avete messi 15.000 in varie tranche e avete perso tutto invece in questo modo avete fatto un piano molto più professionale vi siete ben posti degli obiettivi osservandoli con piccoli obiettivi avete visto settimanalmente mensilmente piccoli obiettivi ogni mese un piccola decurtazione dal vostro stipendio che poi non è nient'altro che togliersi piccolissimi sfizi ma per esempio prima ho parlato anche dell'iPhone per esempio benissimo parliamo dell'iPhone ok potrebbe esserci anche una super rata nel senso che capita che voi mettete i vostri 120 poi capita il mese che potreste no avreste la voglia di comprarvi un iPhone e mille euro di iPhone se no anche di più anzi questo qua è anche di più in realtà infatti non lo comprerò mai più basta spendere troppi soldi un telefono non ha senso e questo anche se uno li può spendere secondo me troppi soldi un telefono il telefono queste sono idee mie quindi volete prendere mille euro voi pensate fate sempre se avete l'obiettivo perché adesso qui io parlo se avete l'obiettivo di fare trading seriamente con più capitale quindi rischiando alla fine meno nel senso il rischio è sempre quello però alla fine se voi avete un capitale di prima di 200.000 poi anche se un mese andate un po' in negativo voi il vostro stipendio le vostre ve lo fate lo stesso che poi diventa come dicevo prima di arrivare a un capitale può diventare iniziare a diventare un lavoro quindi voi potete poi andarvi a ritirare stipendiarvi diciamo ovviamente non è uno stipendio da dipendente ripeto stiamo sempre parlando di attività imprenditoriale se si fa il trading in questo modo è così e e quindi se vi capita a mille euro invece pensate quei mille euro magari 1200 euro un iphone mentre il 1200 dite devo cambiare il telefono che il telefono vi si è rotto ci sono telefoni molto buoni da 3-400 euro quei 1200 diventano 800 400 li spendete per un nuovo telefono poi gli 800 vi cacciate una maxirata lì li avresti spesi su un telefono maxirata sul conto e questo inizia a crescere con calma ecco io adesso vi ho fatto ovviamente i 120 vi ho fatto una remunerazione di questo tipo magari c'è l'anno che fai invece di fare il 36 o il 32 o il 40 fai il 26 ma va bene lo stesso si può decidere sempre di dire beh ciò a fine anno mi restano sul conto questi soldini in più invece di dire ma questi soldi in più li uso per farmi la vacanza chissà dove che mi costa 5000 euro fate una vacanza che vi costa 700 euro e quei soldi non dico tutti ma una piccola parte ecco che andate sempre a capitalizzare finché intanto ripeto aumenta il capitale nello stesso tempo se lavorate in modo serio sano come facciamo noi nel platino con calma aumentate anche la vostra capacità perché l'esperienza aumenta vedete più cose qualsiasi lavoro con più esperienza diventa più semplice e diventa anche più profittevole no? cioè io i lavori di professionismo più li fai più diventi bravo più diventa semplice più hai sensibilità no? di un mercato di una cosa quindi tutto quanto va di pari passo con l'obiettivo poi che alla fine arrivate se avete 25 26 anni arrivate a 30 32 33 anni che addirittura avete un capitale sicuramente già molto più interessante in questo caso per esempio 32 mila euro ok? partendo in questo modo proprio in maniera molto easy e quindi potete ben capire che se vi guardate indietro 4 anni prima ne avevate 5 eravate con nulla esperienza con un po' di competenze e un po' la volta siete partiti adesso avete molte 4 anni di esperienza avete un capitale già diverso che al mese già inizia a permettervi di fare mediamente tenendo sempre questo 3% l'obiettivo inizia a essere di 900 euro di circa 1000 euro quindi sempre rischiando poco quindi 963 euro qua no? facendo proprio il conto preciso quasi 1000 euro vedete che già inizia dai 150 euro dei 5000 voi con lo stesso rischio però il vostro obiettivo diventa di 1000 ma è lo stesso identico rischio percentualmente fino ad arrivare a un obiettivo già questo vi permetterà di fare delle scelte diverse di capire un po' no? cosa state facendo intanto avete dei soldi questi sono trading mi permette di essere sempre liquidi ragazzi cioè non siete non avete investito in immobili dove c'è l'immobile non riuscite a venderlo voi avete invece una posizione su euro-dollaro non vi piace più la vendete quando volete cioè non è siete sempre liquidi quindi oppure sta andando un po' in perdita non vi piace più il mondo il periodo è cambiato la situazione si chiude in perdita piccola perdita babà così no? quindi in questo caso vedete come è cioè lo vedete ad occhi lo vedete eccolo qua quindi siamo assolutamente come dire eccomi qua vedete che faccio così siamo su un modo però di approcciare l'attività di trading questo è proprio va più sull'assetto mentale quindi sulla pianificazione sul focus sull'avere degli obiettivi su cercare di avere le abitudini corrette per avere la disciplina per poi realizzare questi obiettivi che mensilmente sono piccoli anche il lo sforzo di metter via questa piccola parte mensile di portarla nel conto forzatela questa cosa obbligatela ok? obbligatela come se dovesse essere un pack piuttosto che doveste pagare una roba no? che vi arriva una rata che vi arriva dovete pagarla ecco la rata del mutuo questa robina qua la mettete di là e pam 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 nel giro di qualche anno avete visto i conti alla mano nulla di incredibile in quattro anni in tre quattro anni cinque non so io non ho messo il quinto anno ma sicuramente quinto anno andava ancora più vediamo un po' no vabbè dovrei fare dovrei mettere i calcoli avete visto come il capitale diventa diverso cioè lavorare poi dopo quattro anni di esperienza con trenta trentacinquemila invece di cinquemila che al inizio c'è anche meno esperienza diventa un'altra cosa stesso rischio percentuale guadagni diversi voi pensate dopo otto anni non sono sessantamila così sono molti di più perché i centoventi continuate a metterli e ecco questo è è ovvio che a un certo punto dovrà diventare un capitale che voi vi sentite a vostro agio e da lì potete iniziare a dire vabbè adesso voi potete anche comunque decidere di di rinvestire costantemente tutto oppure infatti io poi nel adesso vi faccio vedere ve lo rimetto eccolo qua vedete cosa ho messo poi qui ho messo anche stipendio mensile facciamo che ne abbiamo 20 così arriviamo a un momento in cui possiamo iniziare a farci uno stipendio quindi andiamo così papapapapapa ecco arriviamo ad avere 80mila euro facciamo 70mila eccolo qua 69 70mila ecco io posso dire beh siccome no quello che vado a bene o male guadagno a reinvestire sono circa 2000 mi faccio uno stipendio di 1000 1.2 e li porto giù quindi alla fine io ho stipendio messino e guadagno da reinvestire prima lo reinvestivo tutto quindi guadagnavo 600 ci mettevo 120, 720 lo reinvestivo poi arrivo che posso decidere di dire, vabbè qua li posso anche tirare via quindi da qui ok e posso dire, va bene, adesso io andrò a ritirarmi 1200, reinvesto di quelli che ho guadagnato 860, 1200, 920 1200, bla bla bla, quindi io posso iniziare poi a un certo punto, in base a quello che io voglio fare, voglio avere a livello mio, personale di dire a un certo punto il trading deve diventare anche un attivo diciamo che solitamente ecco, queste sono cifre tra i 50 e i 70 sono quelle cifre che iniziano a farti capire dopo un po' di anni di esperienza di dire, beh, a un certo punto allora anche rischiando poco anche avendo il mese un po' in perdita che si tratta di mesi con piccole perdite voi, ripeto, se ci sono dei platino qui possono commentare e confermare quello che sto dicendo cioè, la importanza del trader è quello di mantenere piccole le perdite a volte ci sta il mese che magari va un po' così benissimo ma è sempre piccolino questo è importante che la gestione attiva della posizione ci permette di non dover fare il mese da chissà cosa o di dover fare il trade da rischio rendimento enorme piuttosto quello che deve andare tutti a target altrimenti ho target o nulla zero questo vuol dire niente sono tutte cose manuali teoriche non frega niente a nessuno alla fine quello che frega è che tu chiudi la linea e la linea è positiva costi e ricavi bilancio conto economico è positivo questo è quello che è importante nel mondo del trading quindi è nel mondo dell'impresa l'azienda chiude l'anno positiva benissimo conto economico costi meno ricavi i ricavi sono più alti dei costi sia guadagnato sia una plus valenza questo è quindi per noi l'importante è avere gli obiettivi e realizzarli per fare trading non si può fare con troppi pochi soldi questo è si può fare ecco questa cosa qua cioè si può progettare in modo sano serio professionale il il modo in cui da qui a qualche anno io in effetti acquisirò sia capitale che competenze esperienza sempre di più fin tanto che a un certo punto si arriverà a una esperienza e a un capitale che ci permetterà anche di fare le nostre decisioni in totale libertà di dire oggi posso anche fare solamente trading se voglio oppure posso anche fare trading e fare anche un'attività part time o vedere altre cose perché mi interessano mi piace farle ma intanto il trading mi paga mi piace mi dà una remunerazione è un attivo davvero è un'attività non è una passività o una cosa vista così un po' all'acqua di rose la scommessa ma sì metto lì seguo quella là seguo quello là il segnale no è la sala segnale questo che fa no cioè questo sono tutte però vedete che è molto importante l'assetto mentale l'assetto ehm sì l'assetto mentale iniziale per chiedersi tutto e farsi e darsi gli obiettivi questo è va bene dai ragazzi io spero ragazzi e ragazze io spero di avervi così dato mi piaceva oggi fare una chiacchierata con voi riguardo questi temi perché questi temi nel trading non sono così tanto ma perché se ci pensiamo questo ve lo dico in Italia ci sono sicuramente dei bravissimi trader però ci sono sicuramente molto più sponsorizzate siti canali youtube di gente che di trading purtroppo anche per la poca esperienza cosa volete che sappia cosa volete che vi e allora mi insieme a ste robe la tecnica X con la tecnica X si pensa che no no bisogna farsi degli obiettivi darsi delle delle regole il trading non è solo tecnica non è solo l'operazione no zero questa è la mia esperienza è l'esperienza di tanti altri ripeto se ci sono dei platinati che sono arrivati fino a qui ascoltare il video scrivete commentate confermate quello che stavo dicendo perché è proprio così ok quindi se avete poco capitale magari siete giovani spesso perché magari una persona che ha 20-25 anni ovviamente si avvicina al mondo del trading è più facile che abbia un po' meno soldi è normale io stesso avevo 20 anni non c'avevo una lira non è che ero cioè normale però se si ha un piano si mette da parte si fa un certo tipo di come dire di pianificazione sia degli obiettivi avete visto i numeri sono lì nero su bianco e quindi questo se volete approfondire sapete che potete sempre richiedere informazioni info c'è Eleonora che è bravissima e mia moglie tra l'altro vi risponde siamo disponibili io Antonio anche Sasha a sentirvi anche telefonicamente nel caso in cui abbiate qualsiasi tipo di dubbio di cose per capire meglio come approcciare il mondo del trading abbiamo dei percorsi che sono assolutamente importanti fondamentali se si vuole imparare a fare trading serio i nostri non sono gli unici ci sono tantissime altre persone brave per carità però io conosco il mio e conosco e so le persone che cosa mi dicono di quello che fanno sul mio quindi ecco questo va bene allora io vi ringrazio vi chiedo di lasciare un mi piace un pollicione su se il video vi è piaciuto e magari vi sarà d'aiuto magari questa cosa vi svolta no chissà a volte sapete sono magari è veramente sono una mezz'oretta così che vi cambia l'approccio quindi a me fa solo che piacere noi ci vediamo ovviamente ai prossimi video alle prossime live e mi piace campanellina quindi la campanella che trovate in home page cliccatela così almeno rimanete connessi al canale nel caso in cui vogliate avere tutte le notifiche bene basta detto tutto oggi ho dato tantissimo va bene ciao ragazzi un saluto alla prossima